Ciao ragazzi! In questo video, realizzato in collaborazione con De Agostini Scuola, parliamo delle proporzioni, che sono un argomento che si studia di solito la prima volta alle scuole medie, ma che poi capita di rincontrare molto spesso anche alle superiori. Cominciamo subito col dire che una proporzione è un'uguaglianza tra due rapporti, e di solito la troviamo scritta in questa forma, in cui A, B, C e D sono quattro numeri. Naturalmente, affinché una scrittura come questa abbia senso, è chiaro che B e D devono essere diversi da zero, e per fissare meglio le idee, qui sotto vi ho riportato un esempio di proporzione. Come vedete, si tratta proprio dell'uguaglianza di due rapporti, e quando la dobbiamo comunicare a voce, invece di utilizzare i termini diviso e uguale, possiamo utilizzare i termini sta e come, e quindi questa proporzione può essere letta così. Uno sta a quattro, come due sta a otto. Cerchiamo a questo punto di visualizzare, tramite un esempio molto semplice, quello che questa proporzione ci dice. Immaginiamo di avere due torte identiche, la prima divisa in quattro parti uguali, e la seconda divisa in otto parti uguali. Quello che la proporzione sostanzialmente ci dice, è che mangiare una delle quattro fette della prima torta, o mangiare due delle otto fette della seconda torta, è equivalente, nel senso che in entrambi i casi abbiamo mangiato la stessa quantità di torta. Come intuite, possiamo volendo riscriverci la proporzione anche sotto forma di un'uguaglianza tra due frazioni, e più in generale, potreste quindi trovare una proporzione scritta nella forma a fratto b uguale c fratto d, equivalente a quella che abbiamo visto prima. A questo punto, prima di procedere, diamo un'occhiata alla nomenclatura. Quando abbiamo una proporzione scritta in questo modo, i termini a e d, ovvero quelli che si trovano all'esterno, vengono solitamente chiamati gli estremi della proporzione, mentre i termini b e c, ovvero quelli che si trovano all'interno, vengono di solito chiamati i medi della proporzione. Inoltre, i termini che si trovano prima del simbolo di divisione, vengono talvolta chiamati gli antecedenti, mentre i termini che si trovano dopo il simbolo di divisione, vengono a volte chiamati i conseguenti. A questo punto, prima di procedere con gli esercizi, dobbiamo fare un'osservazione fondamentale. In una proporzione, il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi, e facendo riferimento alla proporzione qui sopra, deve quindi valere che a per d deve essere uguale a b per c. Questa relazione viene spesso chiamata proprietà fondamentale delle proporzioni, e se diamo un'occhiata all'esempio precedente, vedete che effettivamente le cose stanno così. Infatti, 1 per 8, ovvero il prodotto degli estremi, è uguale a 4 per 2, ovvero il prodotto dei medi. Per fissare meglio le idee, diamo a questo punto un'occhiata ad alcuni esercizi, e cominciamo da questo, che ci chiede di calcolare il valore del termine mancante nella seguente proporzione. Come vedete, il termine mancante è indicato con x, che è il simbolo che si usa spesso in matematica per indicare un'incognita da trovare. Per risolvere l'esercizio, ci basta ricordare quello che abbiamo osservato poco fa, e cioè che in una proporzione il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi, e quindi nel nostro caso otteniamo 12 per x uguale a 15 per 4. Matematicamente parlando, questa è una semplice equazione di primo grado nell'incognita x, e per determinare il valore di x ci basta dividere entrambi i membri dell'uguaglianza per 12, e si conclude che x è uguale a 15 per 4 fratto 12. Possiamo a questo punto semplificare il 4 con il 12, ed otteniamo 1 sopra e 3 sotto, e svolgendo la moltiplicazione al numeratore si conclude che x è uguale a 15 diviso 3, ovvero a 5. Diamo adesso un'occhiata a quest'altro esercizio, molto simile al precedente, in cui questa volta il termine che non conosciamo è un estremo. Per risolverlo, possiamo sempre ricordarci che il prodotto dei medi deve essere uguale al prodotto degli estremi, e questa volta otteniamo che 18 per x deve essere uguale a 6 per 6. Come prima, ci troviamo davanti ad una semplice equazione di primo grado nell'incognita x, e per determinare il valore di x ci basta dividere entrambi i membri dell'uguaglianza per 18, e si conclude che x deve essere uguale a 6 per 6 fratto 18. Possiamo a questo punto semplificare il 6 con il 18, ed otteniamo 1 sopra e 3 sotto, e quindi si conclude che x è uguale a 6 fratto 3, ovvero a 2. Appurato questo, diamo adesso un'occhiata ad un esempio di esercizio più contestualizzato, ispirato ad una situazione reale. Luca vuole preparare 20 meringhe. La ricetta che gli ha dato sua nonna prevede che, per fare 12 meringhe, si usino 150 grammi di zucchero e l'albume di 3 uova piccole. Quanti grammi di zucchero e quante uova piccole servono a Luca? Per risolvere l'esercizio, osserviamo innanzitutto che il numero di meringhe che si possono preparare è direttamente proporzionale alle quantità degli ingredienti che servono per prepararle. Questo significa che se volessi raddoppiare il numero delle meringhe da preparare, avrai bisogno di una quantità doppia di zucchero, mentre se volessi triplicare le meringhe da preparare, avrai naturalmente bisogno del triplo delle uova di prima. Quando ci troviamo in situazioni simili a queste, ovvero quando le quantità in gioco sono direttamente proporzionali, il problema si presta bene ad essere dissolto con proporzioni. Nel nostro caso specifico, per determinare la quantità di zucchero di cui Luca ha bisogno, possiamo scrivere la seguente proporzione. 150, cioè i grammi di zucchero che servono per realizzare 12 meringhe, sta a 12, come x, cioè la quantità di zucchero che vogliamo determinare necessaria per realizzare 20 meringhe, sta a 20. Ricordando come si diceva prima che in una proporzione il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi, si ottiene che 12 per x è uguale a 150 per 20, da cui si ricava che x è uguale a 250 per 20 fratto 12. Svolgendo i calcoli si conclude che x è uguale a 250, dunque Luca avrà bisogno di 250 grammi di zucchero. Similmente, per determinare il numero di uova possiamo scrivere la proporzione 3, cioè il numero di uova necessarie per realizzare 12 meringhe, sta a 12, come x, cioè il numero di uova che vogliamo determinare e che serve per realizzare 20 meringhe, sta a 20. E dopo aver osservato che questo è equivalente a dire che 12 per x, ovvero il prodotto dei medi, è uguale a 3 per 20, ovvero il prodotto degli estremi, si conclude che x deve essere uguale a 3 per 20 il tutto fratto 12. Svolgendo i calcoli si conclude facilmente che x è 5, dunque Luca avrà bisogno di 5 uova. E adesso un'occhiata alle principali proprietà di cui godono le proporzioni. E per farlo supponiamo di avere 4 numeri a, b, c e d in cui il rapporto tra i primi due sia uguale al rapporto tra gli altri due, ovvero 4 numeri legati dalla proporzione a sta a b come c sta a d. In questo caso, se scambiamo i primi due numeri tra loro e anche gli altri due numeri tra loro, cioè se scambiamo ogni antecedente con il suo conseguente, otteniamo una nuova proporzione valida in cui il rapporto tra i primi due numeri è effettivamente uguale al rapporto degli altri due. Questa proprietà viene talvolta chiamata proprietà dell'invertire. Un'altra proprietà utile da ricordare è la cosiddetta proprietà del permutare, che ci dice che se in una proporzione si scambiano tra loro i medi o si scambiano tra loro gli estremi, si ottiene una nuova proporzione ancora valida, cioè in cui il rapporto tra i primi due numeri è effettivamente uguale al rapporto tra gli altri due. Vale poi la pena di menzionare la proprietà del comporre, che ci dice che la somma del primo e del secondo termine sta al primo o al secondo, come la somma del terzo e del quarto termine sta al terzo o al quarto, e similmente la proprietà dello scomporre, che ci dice che la differenza tra il primo e il secondo termine sta al primo o al secondo, come la differenza tra il terzo e il quarto termine sta al terzo o al quarto. Tutte queste proprietà possono essere facilmente dimostrate a partire dalla definizione di proporzione e ricordando la proprietà fondamentale delle proporzioni di cui parlavamo all'inizio del video, ovvero quella che ci dice che il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi. E come voglio farvi vedere adesso, queste proprietà possono a volte tornarci utili per risolvere alcuni esercizi. Supponiamo infatti che ci venga proposto questo problema. In un rettangolo il rapporto tra le lunghezze dei due lati è tre quarti e la loro somma è 14 cm. Quanto sono lunghi i due lati? Per risolvere l'esercizio indichiamo con A la misura in centimetri di un lato e con B la misura in centimetri dell'altro lato. Quello che il testo ci dice è che A sta a B come 3 sta a 4 e che A più B è uguale a 14. Ora se decidiamo di risolvere questo problema sfruttando le proprietà delle proporzioni, a partire dalla proporzione A sta a B come 3 sta a 4 possiamo applicare la proprietà del comporre e quindi sommare ad ogni antecedente il proprio conseguente e otteniamo la proporzione A più B sta ad A come 3 più 4 sta a 3. E visto che A più B è uguale a 14 mentre 3 più 4 è uguale a 7 otteniamo la proporzione 14 sta ad A come 7 sta a 3. Come vedete in questa proporzione l'unica cosa che non conosciamo è il medio A e per trovarlo, ricordando come abbiamo visto negli esercizi precedenti che il prodotto dei medi deve essere uguale al prodotto degli estremi, ci basta osservare che esso è uguale a 14 per 3 fratto 7. Svolgendo i calcoli vedete che possiamo semplificare il 7 con il 14 e si conclude subito che A deve essere 6. A questo punto, visto che sapevamo che A più B deve essere uguale a 14 segue subito che se A è 6 allora B deve essere uguale a 14 meno 6 ovvero ad 8 e quindi si conclude che le due lunghezze cercate sono 6 centimetri e 8 centimetri. Naturalmente saremmo potuti giungere alla soluzione anche in altri modi, ad esempio impostando un opportuno sistema lineare oppure facendo delle considerazioni geometriche su uno schemino stilizzato della situazione. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato, nel prossimo video di questa playlist realizzata in collaborazione con De Agostini Scuola parleremo di percentuali, come sempre se trovate utili questi video ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su facebook ed instagram e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale dove presto arriveranno moltissimi altri video. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!